Salve a tutti e bentrovati. Oggi non sto nella pelle perché vi presento un testo che è in sé per sé irrecensibile e quindi rappresenta una sfida e sto parlando di calasso e delle nozze di cadmio e armonia. Eccomi alle prese con questo testo ed è una vera sfida che perché è irrecensibile? Perché davvero ci sono storie su storie, miti, leggende, dialoga con tutti, davvero con tutti, miti, sacrifici, rituali della Grecia antica e che perciò non è neanche necessario che lo faccia dialogare io, che mi inventi come spesso mi piace fare di trovare degli addentellati comuni tra autori o argomenti disparati. Qui in questo lunghissimo tessuto esistenziale intreccio narrativo riecheggiano Omero, Ovidio, Esiodo, si cantano le gesta degli eroi come Ercole, come Giasone, come Prometeo e tutti gli dèi dell'Olimpo fanno a gara per mettersi in luce. Bene allora, e allora non ci resta che brindale alle nozze di cadmio e armonia. Brindiamo, liviamo, cin cin, a cadmio e armonia. Fine del video. Era irrecensibile il testo. No ragazzi, invece proseguo. Insisto, insisto a proporvelo perché è stato il libro di mitologia più bello, il migliore che abbia mai letto. E non esagero. Quindi se ve lo foste perso, io sono un amante dei miti, lo sapete, ma questo è fantastico. Non solo, ha un suo perché. Dopo aver studiato con passione i mitologemi da 30 anni, penso che abbiano ragione coloro che vedono il mito, una forma di narrazione che può essere capita solo leggendo. E quindi chi, chi meglio di calasso, può condurci per mano e spingerci, addentrandoci in questa selva, davvero. Perché è una selva incantata. Si entra nel mito quando si entra nel rischio. E il mito è l'incanto che in quel momento riusciamo a far agire in noi, ci dice calasso. Ma se parliamo di un tessuto e usiamo la metafora del tessuto, è una stoffa per incantatori. E quale filo intrecciamo? Il filo tessuto dalla mano di Arianna e da Teseo? Oppure il tessuto di sfatto e sfatto e rifatto da Penelope? Il filo invece che nel palazzo delle Moire diviene qui il disegno di una linea della vita e del destino umano? Ancora lo ignoriamo cosa faremo. Ma calasso è capace, è capace di tessere perché padroneggia cultura, spessore di contenuti e una prosa robusta. Mi ha colpito, e credo sia proprio vero, leggere che le sue parole disegnano una sconvolgente linearità, che però qui la fregatura diventa ciclica. Ho letto questa opera ben quattro volte, perché è vero che è una lettura scorrevole, è una lettura che ammaglia. Calasso per me divide, perché piace o non piace, ma chi lo ama lo può leggere anche più volte. Però è anche vero che non ci si deve far inondare, se non, va bene, alla prima lettura ci sta. Ma, o meglio, chi può permetterselo, chi lo ama, può anche arrivare a farsi avvolgere, a svilupparsi in questa tela del racconto, se vogliamo continuare a usare questo tipo di metafora del tessuto. Fa parte del piacere che ci si può e ci si deve anche concedere, ci sta. Piacere suscitato dall'amore, che sia anche quello per i miti. Poi però, poi però occorre soffermarsi. Altre letture verranno per farci capire, riflettere, come una sorta di meta lettura sul modo di ragionare. E quindi non solo vi consiglio di leggere questa opera, ma di rileggerla addirittura. Vi assicuro che non vi risulterà ostico, naturalmente vi deve piacere l'argomento. Se non vi piacciono i miti, allora non è il caso. Perché davvero non è ostico, perché la penna di calasso è una penna elegante, puntuale, preparata, che appartiene al presente, seppur mantiene vividi i colori del passato, di un passato così antico. Esiste nella misura in cui non solo è nel presente, con la sua eleganza, segna il passato, ma anche il futuro della letteratura. Perché la sua è una preparazione, è anche la preziosa bibliografia di cui si avvale, che non è richiesta a noi lettori, non è necessario che noi la conosciamo. Magari potremo documentarci successivamente, perché non si finisce mai di approfondire. Ma permettiamoci di godere, nell'ultimo banchetto tra uomini e mortali e dei, durante le nozze di Cadmio Armonia, tra loro troviamo, tratteggiate sapientemente, delle personalità curiose, a volte morbose, a volte furbe, seducenti. Tra loro troviamo Eschilo, Sofocle ed Euripide e ci sorridono di sottecchi, ci strizzano anche l'occhio, ci fanno l'occhiolino. Tebe è libera proprio dal terribile mostro Tifeo e Calasso scrive che il mostro è la sorgente, non ha bisogno dell'eroe, è l'eroe che ha bisogno di lui, cioè del mostro, per esistere. E Eros si muove anche con Polemos, dobbiamo prenderne atto. E noi possiamo sentire davvero nel profondo cos'hanno da dire questi cori olimpici. Un discorso leggendario, inesauribile, che come diceva Pavese, è un bene universale. Fa parte della nostra stessa mappa genetica, dei nostri geni. Per questo noi siamo così attirati dai miti, perché sono connaturati dentro la nostra stessa natura e altrettanto preziosa sul versante delle esegesi del mito, in chiave psicologica, mito psicologica. E davvero, qui ve lo devo fare notare, perché come scrisse Sallustio, queste cose non avvennero mai, ma sono sempre. E quindi ecco che noi attraverso il mito, assaporiamo un attimo, una scintilla di eternità. E interessante è anche l'interpretazione che Calasso dà alla grecità. Sulle orme di Nice vi riscontra il primato dell'estetico sul morale, la giustificazione estetica dell'esistenza, la bellezza estetica, che rende sopportabile il ciclo insopportabile della quotidianità. E' proprio questo aspetto estetico, infatti, che mi ha così attirato. Non per niente, io mi sono specializzata in estetica. E quindi confermo, confermo queste parole, perché l'insopportabile banalità della quotidianità attraverso loro, queste storie, davvero non solo si nobilita, ma ci nobilita, ci fa trascendere. Non aspettatevi una collezione di storielle, naturalmente. Sono dei lunghi intrecci che, proprio come già consigliava Socrate, ci devono mettere nella disposizione d'animo di abbandonarci emotivamente ai racconti, lasciando perdere di teorizzarli o sistematizzarli, perché se ne perderebbe il valore intrinseco. Davvero, se a voi piacciono le tassonomie, vi piacciono le classificazioni, fatelo, ma fatelo successivamente. E neanche dopo la quarta lettura io lo farei, però qui ognuno si senta libero. Perché davvero sistematizzarli farebbe sì che se ne perderebbe un po' il valore intrinseco. Contempliamo, invece, con gioiosa partecipazione, lo sterminato che lei dè scopio di visioni, di vicende, descritte davvero nei minimi dettagli. E proprio possiamo anche arrivare a sentirle, a riecheggiare, a potercele raffigurare. Emblematico è leggere una luce radente, netta, investe e mostra nelle loro molteplici connessioni, come una vasta e leggerissima rete che si posa sul mondo. La rete, il tessuto che ci avvolge, che si posa. Storie della Grecia antica e anche dell'India, scritte con questa penna, elegante, sapiente, dal tocco leggero, senza che vi sovrasti l'erudizione. Che trapela, certamente, lui è davvero un autore potente, possente, erudito, ma cede il passo all'accattivante energia che muove uomini, dei, semi-dei, da sempre, da sempre nel mito. E che lo scrittore disvela, con naturalezza, quasi gli siano indifferenti i lettori. Quasi che non gli importasse niente di chi lo sta leggendo, incurante delle loro reazioni, immerso nel mitos, come parola, favola, che non richiede delle spiegazioni razionali. E nel Logos, e i Logos, ci si chiede, e allora arriviamo a questa pagina in cui lui dirà La potenza dell'astratto nacque come rifiuto dell'enciclopedismo etico, dove la sentenza sul potere degli dèi o il precetto su come inchiodare le assi si presentavano come tarsie di uguale valore e frequenza sulla superficie della narrazione. Opposto era ciò che vollero Anassimandro o Eraclito. Frasi che si sussumessero interi cicli di realtà e quali li oscurassero, abbagliando con la propria luce. Il Logos, quando appare, annienta il particolare. L'accumulo di detriti, che in ogni esperienza, la coazione a ripetere ogni dettaglio, come la cifra, come la freccia di Abari. Il Logos trafigge in un atomo del tempo ciò che i rapsodi erano avvezzi a ricucire, a ripetere, per fumose notti senza fine. Fu quella un'ebrezza che non aveva precedenti. Dall'Oriente erano venute storie più occulte di altre storie, ma qui di storie non si trattava più. Erano enunciati scarni, in paragone, che imprimevano sulle cose il sigillo di ciò che è. E quel sigillo permaneva chiuso in se stesso, fiero e immobile, come l'Epsilon incisa sul Tempio di Delfi. Lì, per la prima volta, i sacerdoti scoprirono, come quella conoscenza che potere non derivi soltanto dalle storie segrete degli dèi, ma dal sillogismo ipotetico. E quindi qui, mito, cede il posto alla filosofia, al Logos, per poi realizzare, si spera, una sorta di sincretismo o di alternanza, se vogliamo, l'uno all'altro. Ma qui, che cos'è? Che cos'è questa materia? È un groviglio? È una massa inestricabile? Sembra mettere in guardia sulla fisicità propria, proprio sulla fisicità di ciò che viene espresso, ma con una narrazione che non è mai fine a se stessa. E allora che cosa troviamo accanto al Logos? Vi ho detto che queste non sono da leggere come delle storielle, in modo prosaico, ma in realtà si parla del corpo del mito, che si fa presenza, mediante la hierogamia, che è un termine storico-religioso per definire determinati riti religiosi in cui si rappresentavano le nozze tra due divinità, oppure tra una divinità e una persona umana. In queste nozze hierogamiche spesso c'è anche la dimensione del sacrificio. E per chi fosse interessato ad approfondire questo concetto può guardare il mio video proprio su Burkett e sul sacrificio, mito, rito e sacrificio. Ma Calasso non si centra invece sugli aspetti rituali e misterici, seppur ne allude frequentemente. Per lui ogni mitografo compie un'operazione creativa e c'entra il suo cantare, il mito, su una sorta di polarità duplice che possiamo definire erotico-estetica, hierogamica-sacrificale. Quindi erotico-estetica, trattino, tra i due, e hierogamica, trattino-sacrificale. e come Tò e Melanippo appagarono l'impeto dell'amore nel tempio di Artemis e in seguito usarono il tempio come se fosse una camera nuziale. A quel punto vi lascio proprio intendere come Artemis, Artemide, divenne furiosa. L'ira di Artemis cominciò a distruggere gli abitanti del luogo. Strani morbi apparivano e conducendo a morte fuggirono così all'oracolo di Delfi e la Pizia accusò Melanippo e cometò. L'oracolo poi ordinò che fossero sacrificati ad Artemis e che ogni anno un giovane e una giovane fanciulla, i più belli di tutti, venissero sacrificati alla Dea. E allora leggiamo Ierogamia fu il primo dei modi in cui gli dei vollero comunicarsi agli uomini. Quell'avvicinamento era un'invasione dei corpi ed elementi che si impregnavano dell'abbondanza divina. Ma già dall'Eros olimpico emanava quella sovrabbondanza. Quando Zeus e Hera si congiunsero sull'Ida li avvolgeva una nube dorata da cui stillavano sulla terra gocce lucicanti. Perché gli uomini non hanno saputo tenersi alla Ierogamia? Per una colpa, la colpa di Prometeo. Dovevano rispondere a quell'invasione e scelsero il loro modo per comunicarsi agli dei. Spartirsi la stessa vittima mangiandone le carni e i visceri lasciando il fumo agli dei. Fu quella la fondazione del sacrificio olimpico. Per questo Tien sacrificare significa affumicare. Era un omaggio lievemente ipocrita alla divinità. La colpa di Prometeo è la natura degli uomini che li obbliga a mangiare quindi a uccidere. Così per loro assimilazione si legò per sempre alla uccisione. e quindi ierogamia e sacrificio olimpico hanno in comune il prendere possesso di un corpo invadendolo o divorandolo. Ma come aveva voluto Prometeo per assimilare un corpo agli uomini dovettero ucciderlo e mangiarne la carne morta. Il fumo come viene detto dal mito avvolgeva i corpi come in una nube e ne succhiavano gli umori stillanti nell'eros. La saliva è l'elemento sacrificale per eccellenza l'unico in cui due gesti del sacrificio espulsione e comunione convergono. La saliva si espelle come sostanza impura ma anche si mescola e si assimila a una sostanza affine nell'eros. Ma le differenze tra uomini e dei non sono per forza a scapito dei mortali. Ricordiamo proprio come Prometeo rivendichi seppur nel suo supplizio eterno d'essere finalmente umano tra gli umani fino a potersi rivolgere a Zeus incurante della morte e disse Prometeo credevi tu forse che avrei odiato la vita perché destinato alla morte? Io sono nato da quella roccia cui mi avevi affitto in un tempo che non ti appartiene più. Io ora sto qui tra chi è e chi mi ama e essi gli uomini sono a tua immagine e somiglianza. Questa stirpe chi sono gli uomini? Riflettiamo su queste pagine a cui il mito ci riconduce che sono fanno parte della nostra genetica sono dentro di noi le abbiamo inventate noi creati noi questi miti gli uomini una stirpe fatta per soffrire e piangere godere e gioire questa sorta di cerchio che bagna il cielo dell'antica Grecia con tutte le sue versioni le sue varianti le sfumature pare ripartire per una strada che non è mai solo semplice un sentiero tracciato sul mito si è sempre detto quante versioni a me piace più questa a me piace più quest'altra e questa non ci doveva essere e mi perdo nelle versioni ma non bisogna tentare nemmeno di seguire dei sentieri tracciati perché equivarrebbe a inseguire le lettere le linee dell'inchiostro ora un percorso ora un altro e così via accennando la costituzione del visibile come espresso da tutte tutte le forme del possibile che oscillano tra il remoto e il passato più prossimo e arrivano ad attingere alla nostra origine come se il mito fosse un enorme mastodontico inconscio collettivo come direbbe Jung un essere vivente complesso e protoarcaico sicopompo e anima mondi che nasce prosegue si chiude ricomincia e ancora una volta proprio si ripete in infinite varianti questo è il senso delle varianti simili ma non uguali somiglianti ma differenti che sempre ci stupiscono ci catturano ci accendono di memorie di immaginari di emozioni pensate alle stracelebrate figure dei coniugi odisseo e penelope e qui e qui non posso esimermi perché è davvero bellissima questa questa narrazione secondo altri qui già abbiamo penelope penelope sarebbe stata abitata come esempio di castità e fedeltà e qui eri saputo penelope bifida è la storia della nascita di panno e secondo alcuni quando odisseo tornò a itaca trovò la sua dimora devastata sin dalle fondamenta da infoiati ladri di donne in mezzo a loro stava penelope e la bassaride la volpe puttana che tiene bordello con maestà e svuota le camere versando nei banchetti la ricchezza del disgraziato il disgraziato era lui odisseo allora l'eroe la scacciò doveva tornare dal padre che un tempo era stato felice di lasciare aggrappata al suo sposo così penelope rivive la piana di sparta e le montagne che la circondavano sulle alture di mantinea si congiunse con hermes poi morì dopo aver partorito pan da allora pan corre e suona sulle valse dell'arcadia ma a me questa versione di una penelope infedele di una penelope insolita perché scacciata da odisseo non la penelope moglie fedele che si è solita vedere in quasi tutte le versioni e invece penelope sentiamo qui ancora dormiva il sonno di quelle ore fu il più dolce per lei in vent'anni sprofondava nella dolcezza irresponsabile l'immediato per penelope era il male e tutta la sua vita era accorta deviazione dell'immediato come il suo sposo di sé un tempo usava tenere gli occhi bassi perché rifletteva e allora il suo sguardo sfuggiva a tutti così penelope per quanto scendeva nella grande sala si sollevava il peplo sulle guance perché dalla sua espressione si cogliesse il minimo la sala era vuota sapeva di zolfo con lo zolfo e il fuoco avevano cercato di coprire il sentore della carne piegata si trovavano seduti uno di fronte all'altra nel chiarore del fuoco e Odisseo teneva gli occhi bassi ancora una volta lo sguardo di penelope scorreva su di lui tratto per tratto erano due cuori di ferro due esseri arroccati nella mente che usavano la forza e la bellezza come armi occasionali ma tornavano subito nelle loro acropoli invisibile solitari per lunga abitudine riluttavano a riconoscere qualcuno con cui spartire il proprio monologo e qui un'altra versione ancora vedete due solitari che non sanno comunicare tra di loro che sono troppo abituati a stare soli a stare lei aspettando lui lui in tutte le sue avventure e le sue esplorazioni e la sua ricerca e quindi davvero non si finisce mai di trovare nuovi mondi e nuovi modi di interpretare figure che ci sembrano mai scontate ma solite familiari il mito viene detto è teologia sessuale ierofania erotica e l'estetica viene presentata come teologia della luce puro apparire che è Zeus è apparire luce eppure lui regna il visibile e l'invisibile è il primo e come tutti coloro che furono i primi anche lui commette la colpa del padre perché inghiottire tutto l'universo inghiottire Fanes e poi vomitare l'intero cosmo in cui tutto ciò che è diviene ancora una volta purificato pronto per la sacra nuova dimora dell'Olimpo il dio greco è un dio che a causa della necessità commette colpa e la usa mentre l'uomo a causa della stessa ananche commette colpa e la subisce vedete la differenza la colpa nel mondo terrestre si fa corpo si fisicizza distrugge uomini famiglie e stirpi il dio greco è un dio capriccioso testardo insolente ma soprattutto un dio che esige immancabilmente di essere riconosciuto riconosciuto come tale come dio gli eroi omerici non conoscevano una parola ingombrante come responsabilità e non l'avrebbero nemmeno creduta per loro è come se ogni delitto avvenisse in stato di infermità mentale ma quell'infermità significa qui presenza operante di un dio ciò che per noi è infermità per loro è infatuazione divina e si scopre via via che il farsi delle cose è dato dallo stabilizzarsi delle immagini per cui via via che ci si appropinqua alla modernità inizia la lacerazione dell'organico di quello che viene detto l'holos quando il simulacro la copia sostituisce sacrificalmente l'assolutezza della singolarità del genius loci e della teofania o hierogamia queste polarità rappresentano per il mitografo la dinamica e la lirica all'interno di una struttura fluida del reale quale epifania di ananche e di nemesi di necessità e di purificazione e allora leggiamo nell'era della pienezza di Zeus regnava la metamorfosi come statuto normale della manifestazione mentre nell'era già intaccata dalla profezia di Temis la realtà si rigidiva gli oggetti si fissavano è meraviglioso questo come proprio viene cantato questo mito per la sua natura metamorfica ma com'era cominciato tutto ci si chiede ecco che prima una storia il cui intreccio si dipana cattivante per esempio il ratto d'Europa strappata all'Asia dalla libidine di Zeus che si muta in toro e la trasporta nell'isola di Creta ma ancora il medesimo interrogativo com'è iniziata com'è iniziata la vicenda il tessuto narrativo si riavvolge non si parla più pensate questa è una parte davvero curiosa non si parla più del rapimento ma si procede indietro all'indietro si parla di un sogno della notte prima quando due donne Asia e Europa si azzuffavano brutalmente per il possesso della principessa che all'indomani sarebbe stata poi rapita e così via e così via e quindi apprenderete piano piano proprio come fare a riavvolgere perché gli accadimenti vanno all'indietro sono sempre più remoti le varianti ci dice Calasso sono davvero la circolazione sanguigna perché corpo davvero questo mito sono la linfa e senza nemmeno far caso alle contraddizioni ascoltiamo cosa hanno da raccontarci a noi noi uomini contemporanei della modernità del postmoderno noi uomini del dubbio noi antieroi il mito davvero non è qualcosa a cui fare ritorno né come mero oggetto di studio passivo no no non sviletelo vi prego non sviletelo con uno studio passivo solo per classificare i miti solo per costruire le varianti non è la logica non sono i grafici ma il mito non va studiato va usato bisogna che il mito penetri in noi Zeus ha due modi per imporsi sull'essere umano caduco o lo rapisce o abusa di lui sceglie di farlo in forme sempre diverse giacché il dio non è esplicito è mentale lo si deve riconoscere dentro di noi era teti non cedette perché è rispettosa e nella sua mente spaventata della sposa celeste così diventarono amiche ma la visione di era è qui come altre volte troppo centrata su se stessa dietro il rifiuto di teti c'era una ragione più grave anzi la più grave dall'unione di Zeus con lei sarebbe nato il figlio destinato a soppiantare il padre il figlio più forte del padre dicono con identica formula Pindaro ed Eschilo soltanto allora Zeus rinunciò veramente a teti voleva infatti conservare il suo potere per sempre forse teti conosceva già quel segreto allora fu teti quella dea marina che non frequentava l'olimpo a chiamare in soccorso briareo titano dalle cento teste che salvò Zeus teti aveva un credito verso Zeus per quello che aveva fatto per lui con la parola e con il gesto di quel credito si sarebbe valsa per difendere il figlio di Achille quale fosse la ragione del comprotto fra gli olimpi per imprigionare Zeus fra mille nodi ci viene tacciuto da Omero ma il dio legato è un dio spodestato nulla di meno avevano cercato gli olimpi quella volta e gli amori di Zeus ci appaiono ora in una luce nuova lì si celava il supremo pericolo ogni volta che si avvicinava a una donna Zeus sapeva che forse stava provocando la propria rovina sino a questo punto si spingono le storie ma per ogni mito narrato c'è un mito non narrato e innominato che gli accenna dall'ombra affiorando per le illusioni schegge coincidenze senza che mai un autore osi raccontarlo di seguito come una singola storia e qui il figlio più forte del padre non deve ancora nascere perché è già presente è Apollo davvero potenti questi miti che ormai allontanano gli dèi gli dèi sono grati altrove ci viene detto non dobbiamo rimpiangere troppo di aver perduto molti segreti del mito anche se dobbiamo educarci a percepirne la mancanza il vasto indecifrato sarebbe come davvero pretendere di vedere alzando lo sguardo alla volta celeste sette sirene che intonano ciascuno una nota intorno a ciascuno dei cieli è impossibile ma se siamo disabituati non solo non vediamo le sirene ma non distinguiamo più i cieli eppure in questa stoffa tagliuzzata in queste storie monche degli dèi ci insegna calasso possiamo ancora avvolgerci e dentro il mondo come dentro la nostra mente quella stoffa continua a tessersi e è bellissimo tutto ciò e dobbiamo avere fiducia in questo credetemi da secoli da secoli si parla dei miti greci come se fossero qualcosa da risvegliare da trovare in verità sono quelle favole che aspettano ancora di risvegliarci ed essere viste come un albero davanti all'occhio che si riapre i miti sono composti di azioni che includono in sé il proprio opposto l'eroe uccide il mostro ma in quel gesto si percepisce che è anche vero l'opposto il mostro uccide l'eroe l'eroe rapisce la principessa ma in quel gesto si percepisce che è anche vero l'opposto e ce lo dicono le svariate versioni ma ammettiamo che scompaiano tutte rimarrà uguale il mito e qui si giunge al discrimine proprio tra il mito e ogni altra narrazione anche senza varianti il mito manterrà l'inclusione dell'opposto che cosa lo prova la sapienza romanzesca il romanzo questa narrazione di mediata delle varianti tenta di recuperarle accrescendo lo spessore di questo testo singolo a cui deve affidarsi così l'azione romanzesca tende come verso il suo paradiso all'inclusione dell'opposto che il mito possiede per diritto di nascita il mitografo vive in una perenne vertigine cronologica che finge di voler sanare il groviglio si accresce i fili si imbrogliano nessun mitografo è riuscito a comporre la propria materia in una sequenza coerente eppure eppure tutti si sono proposti di fare ordine in questo erano fedeli al mito stupendo davvero il gesto mitico è un'onda che nell'infrangersi disegna un profilo perciò il mito non ammette sistema è il sistema stesso è innanzitutto un lembo della mano di un dio un lascito minore di Apollo e i miti greci erano storie trasmesse con le varianti lo scrittore fosse Pindaro o Ovidio le ricomponeva ogni volta in modo diverso omettendo aggiungendo ma le nuove varianti dovevano essere rare o poco visibili così ogni scrittore accresceva assottigliava il corpo delle storie così il mito continuò a respirare nella letteratura vi ha spiegato benissimo vedete questa penna sapiente vi ha spiegato benissimo la ragione il perché e la creatività delle varianti la genesi del mito è genesi del reale e a un primo livello abbiamo dei nomi femminili senza volto senza gesta ma sono questi nomi femminili il presupposto di ogni impresa di ogni vicenda e qui davvero fateci caso a questi nomi la rete dell'esistente il discorrere dell'essente si esprime con questi simboli con questi segni della necessità ananche che opera superiore degli stessi e la corona di prometeo la ghirlanda di teseo la collana di arianna e di armonia e quindi vedete emergono i logoi che non sono scindibili dalla narrazione antica affiora una coerenza profonda non contraddetta non contraddetta insisto dalla pluralità narrative non abbiate paura anche se trovate rintracciate nelle varianti delle contraddizioni però alla base non c'è non c'è questo perché le pluralità narrative così come le potenze della mente della natura non si contraddicono ontologicamente come essere calasso concilia in questo proprio la componente logico discorsiva con quella poetico proiettiva calasso è un plutarco non morale non sistematico diciamo e il simbolo nella sua opera perde ogni dimensione di spessore culturale per per ripresentarsi quale epifania di necessità il mito è nexus nodo connessione trama e calasso è proprio libero e ci libera esso stesso dall'ossessione razionalistica dello spiegare che è una dispersione banalizzante ormai l'avete capito egli ci pone innanzi delle immagini come fosse la prima volta lascia intendere l'imago luccicare e qui sta la nemesi il racconto ritorna alla sua essenza di corpo perché il segno è corpo infatti l'ermeneutica di calasso è un'ermeneutica dell'incontro dell'alleanza del segno e l'archetipo greco essendo singolare può tornare solo nel rito e nel canto e si moltiplica si moltiplica come uno specchio spezzato talismani reliquie oggetti sacri misterici come il palladio o il peplo porpora di dioniso o il bacile di europa o la scapola demetrica di pelope agiscono sono forse vive nella fisiologia di ogni coscienza calasso non è un mitologo cioè non è un semplice studioso di antiche fonti letterarie su dei eroi ma è un mitogono è una voce che è scesa nel racconto e e guarda dentro il suo sguardo è dentro alle vicende calasso come il mito non morirà mai perché soccombono gli uomini ma non le storie le storie sono eterne e soccombe l'uomo mortale ma l'estetica la bellezza di cui lui fu devoto cultore custode attraverso le sue opere rimarrà in calasso come in plutarco come in ovidio come in tutti i miti greci e in particolare se proverete una certa confusione in questa opera nell'orientarvi all'interno della materia e non vi nego che forse la proverete io studio il mito da trent'anni e l'ho provata lasciatevi lasciatevi abbandonatevi a questa molteplice metamorfica emozione rintraccerete forse anche più caos abbandonandovi ma nemmeno un pizzico di pesantezza la terra lievissima del mondo dei miti è capace di evocare immagini senza imporle al lettore il lettore non si sente pressato non si sente che lì soffocato da qualcosa che deve per forza studiare o entrare in lui ma è molto naturale proprio perché il fruttore vi deve poter attingere in modo libero personale e quindi il suo è un sogno un volo pindarico tra l'antica agnosi e le idee della moderna psicoanalisi che credo vi susciterà una meraviglia uno stupore inesausti per il mondo un abbraccio dionisiaco dell'esistenza al di là del bene e del male e ora davvero prendo congedo da questa ennesima sfida di condividere un libro irrecensibile con questa ieratica semicitazione in cui mito filosofia si uniscono e nella loro processualità si rintraccia quell'aura traumatica quel fondo panico e silenico ma soprattutto si trova il punto di vista di Calasso che risiede nell'occhio di Horus cioè vuole essere il punto di vista del cosmo e non di una o dell'altra potenza di uno o dell'altro dio e quindi alla prossima namastè davvero Calasso ovunque ovunque tu sia e namastè a voi mitici lettori libiamo alle nostre di campo e armonia non aspetta grazie a tutti